Dove state andando? Noi, in questione del turismo, giriamo. In particolare dove andiamo? Stasera prendiamo l'arena per il concerto di Ava. Dove stai andando? Per il nuovo italiano. Ah, ok, non voglio. Grazie. Dove stai andando? A Primo di Vodì. Dove? È una biblioteca civica. Perfetto, grazie. Dove lavori? In una scuola. Grazie, dove stai andando? Sto cercando un negozio che vende caricatori, telefono. Grazie mille. È lì comunque, proni. Dove stai andando? Sto andando lì. Grazie. Sto andando lì. Eeeh, parcheggio Portapagno. Posso chiedere, dove lavora? Alla, quando c'è un'arena di Varuna. Grazie mille. Grazie. Dove stai andando? Sto andando a casa. Ok. Dove lavori? Lavoro al bingo. Perfetto, grazie. Dove andate di bello? A prendere il motorino. Anche tu? Sì. Ciao, grazie. Ciao. Dove andate adesso? In Audi. Dove? In Audi. Ma dove state andando adesso? Ah, adesso? Eh, fanno un giro. Ok, grazie. Gioventù e droga. Prossimo studio universitario. Dove stai andando? In questo momento. Dove vai? Sto cercando un paio di sandali in saldo. Ah, quindi vai al negozio qui? Sì, penso di sì, non lo so. Grazie. In uno di questi negozi. Grazie. Dove andate? A fare una passeggiata. Anche tu? Certo. Dopo? Poi penso a casa, a cena e a dormire. Grazie. Dove state andando? Buona domanda, no, verso l'arino di Verona. Verso l'arino. A vedere? Siamo di Genova, no, andremo a vedere in Audi. Siamo venuti qua, siamo arrivati due ore fa. Quindi stiamo girando a Muzzo. Perfetto, grazie. Dove sta andando? Mi regalo per una mia amica. Perfetto. Grazie. Signora, scusi, per uno studio universitario. Dove sta andando? Non rilascia l'intervista. Signora, scusi, dove sta andando? Per uno studio universitario. Dove state andando? What? Ah, è un altro ridoling. Ok, va all'italiano. E dove stai andando? Saluti. Fiderti dove stai andando. Sto aspettando una persona e poi torno al lavoro. Grazie mille. E dove stai andando? Un giro per Verona. Grazie. Dove stai andando? Perché? Visitario. Privacy. Ah, basta dirlo. Arrivederci. Scusa, dove stai andando? Dove state andando? Alla macchina. Ok. Grazie. Dove state andando? Sto andando ai portoni. E dopo cosa fate? Un po' andiamo alla Muga a prendere una maglietta. Perfetto, grazie. Dove state andando? All'hotel. Ah, qua. Nel negozio di Apple Pie. Dove stai andando? Solo questo. Torno subito, torno subito. Dove stai andando? A casa. A casa. Ok, grazie mille. Arrivederci. E dove state andando? Facciamo due passi. Grazie. Valeria, dove stai andando? In fabbrica. Dove state andando? A spasso. A spasso. A spasso. A bere i caffè. A bere i caffè. Grazie mille. Scusa, dove stai andando? Eh, io sto andando a fare l'aperitivo. Grazie. E dove state andando? In giro per il lavoro. Grazie. Grazie. Anche lei. Sì, sì. Scusa. Grazie. Sto andando a lezione. Grazie. Dove stai andando? A passeggio. A cercare un regalo. Al cinema. Ezzo. Dove stai andando? Sto andando al mio ufficio. Ok, perfetto. Grazie. Dove stai andando? A casa. Perfetto. Grazie. Dove stai andando? A fare shopping. Perfetto, grazie. Dove stai andando? Sto andando a vedere i negozi. Grazie. Dove state andando? Alla casa di Giulietta. Ok, perfetto. Grazie. Dove stai andando? Sto andando a casa. Grazie. Dove lavori? In banca. Dove stai andando? Sto andando alla macchina. Grazie mille. Grazie. Dove stai andando? In questo momento ho preso un po' di cibo e vado a casa. No, vado a bere un caffè a Porta Mischia. Perfetto, grazie mille. Dove state andando? Stai scherzando? No, davvero. A passeggio. Grazie. E dove lavorate? Allora, in questo momento da nessuna parte. Andiamo in ferie in un mese comunque. Perfetto. Non stiamo lavorando da nessuna parte. Grazie mille. Dove state andando adesso? A Pobre del Sarco. Perfetto, grazie. Dove state andando? A casa. Dove lavorate? Io faccio l'università. Lui lavora. Io lavoro in cartiere. Grazie. Grazie mille. Lei sta andando a casa e io sto tornando a casa. Perfetto, grazie. Dove state andando? Sto andando in un'università. In una macchina di università. Perfetto. Siete studenti di? Economia. Economia. Medicina. Che hobby avete? Cosa fai nel tempo libero? Io gioco a calcio. Io nel tempo libero vado fuori con gli amici. Vado fuori con la ragazza o con gli amici. Grazie mille. Ciao, scusa una domanda. Dove vai? Vado a scuola. Quale? In classe. Bravo. Vado a scuola.